Quindi fallosa, giudizio di lento l'azione di Pavan, che non va per contendere il pallone ma va direttamente su Swanepoel. Pali, vento a favore. Sì ma sono 60 media abbondanti. Ci prova Nathan, Troy Nathan prova un calcio centrale, ma da 60 metri. Sì, mancano più di due minuti, vento è a favore ma là... Ok Francesco. Ma il vento del pallone dello schiaccia anche eh? Sì sì, per carità ma... Chi lo sa? Troy Nathan. Un calcio più di due minuti. Il vento peraltro soffia trasversalmente. Altocalcia sotto il pallone oltretutto. Ok, grazie mille. Sì perché non è così distante, prende poca rincorsa. Oh, la direzione c'è, la direzione c'è. C'è anche la forza! Ciao. Tre punti Nathan! Attenzione perché sono zero punti in questo momento per Viadana. Più dieci per Mogliano. Allora, adesso arriverà Luca Pezzini che ci dirà, mi date il man of the match. Allora, è il drop di Gallone, i punti di Fadalti e il calcio di Nathan, oltre alla prestazione comunque molto positiva di Troy Nathan. Rimbalza in campo il pallone. Mervosismo. Se la ride.